Prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti dell'Institute of Jainology di Londra, espressione dell'antica religione jainista, sorta in India nel VI secolo a.C., incentrata sulla filosofia della non-violenza verso tutti gli esseri viventi. Questo incontro, ha detto il Pontefice nel suo saluto, fa crescere la nostra responsabilità nella cura del creato, di quel dono che tutti noi abbiamo ricevuto, perché ne abbiamo cura. Il creato è lo specchio di Dio, è lo specchio del Creatore. A noi, a tutti, piace dire la Madre Terra, perché è quella che ci ha dato la vita e ci custodisce. Anche dire la sorella Terra, che ci accompagna nel nostro cammino dell'esistenza. Il nostro compito è un po' curarla come si cura una madre o come si cura una sorella, cioè con responsabilità, con tenerezza e con la pace. Rimaniamo uniti, ha concluso il Papa, in questo lavoro di fare che la nostra madre, la nostra sorella Terra sia custodita, nella consapevolezza che custodire il creato è curare e custodire l'umanità intera. Grazie. 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 Grazie.